Emiliano Antici, un atletico Rocca Massima che sicuramente non sta piacendo neanche a te, nonostante comunque questa sera si sia vista veramente una svolta in campo. Beh, diciamo che purtroppo stasera la differenza è stata il rientro dagli spogliatoi. Purtroppo loro sono rientrati carichi a 2000 e noi non si sa per quale motivo abbiamo mollato la pressione, loro hanno giocato meglio, hanno meritato di vincere, più cattivi, più tutto, più squadra. E poi mister, però più volte ci siamo sentiti nel corso dell'anno, diciamolo facciamo tutti, fini settimana, ma quest'anno forse qualcosa in più manca, quella squadra che c'eravamo abituati a vedere la scorsa stagione? Allora, praticamente è successo che ovviamente cambiando gli obiettivi è normale che quando una squadra purtroppo c'è l'anno scorso, eravamo alla sorpresa, ovviamente ogni partita diventava un'impresa per noi vincerla. e giocando sempre al massimo automaticamente gli stimoli venivano da soli. Quest'anno ovviamente partiamo molto rapidamente con i favoriti del pronostico data l'annata precedente, però molto rapidamente purtroppo non abbiamo fatto il saltello a livello mentale che richiede, tra virgolette, per diventare grande squadra diciamo, che è una grande squadra ovviamente noi comunque giochiamo, ma giochiamo a tratti. Purtroppo, soprattutto all'inizio del campionato, alcune partite, anzi molte partite, in vantaggio 3-0 dopo 18-19 minuti, puntualmente mollavamo la presa e facciamo sempre rientrare in partita la squadra avversaria. Ecco, questo è il sintomo comunque di qualcosa che manca, soprattutto diciamo mi accollo anche parte della responsabilità perché molto probabilmente abbiamo perso un attimino il discorso di allenarsi con cattivetia, diciamo, e questo dipeso soprattutto da parte mia perché molto probabilmente sono diventato troppo amico con i giocatori e un pochino, però ultimamente abbiamo fatto quadrato, comunque eravamo comunque usciti anche la partita con la Cimili, abbiamo fatto secondo me una grossissima partita, però purtroppo non l'abbiamo chiusa e gli ultimi 5 minuti purtroppo abbiamo preso 3 gol. Ecco mister, a questo punto il Rocca Massima, siamo al girone di ritorno, siamo all'inizio, c'è tutto il tempo e la possibilità soprattutto, ma ci vuole, a questo punto abbiamo capito anche dal gesto, ci vuole molta testa, ma si può fare in questo gruppo? Si può fare, anche perché penso comunque la scuola nostra sia a livello tecnico che a livello tattico può competere con chiunque, ovviamente ci mancano ancora le piccole accortezze che ci fanno comunque giocare bene, oggi per esempio il primo tempo secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, però poi alla fine facciamo difficoltà a lungo andare a portare tutto alla stessa intensità nei 60 minuti e questo purtroppo bisogna lavorarci in allenamento, se non ci alleniamo bene purtroppo non è una situazione che può andare a migliorare, la situazione rimane la stessa, questa è la differenza, quindi sono problemi che li posso risolvere solamente io durante l'allenamento, questo è quanto, per quanto può essere cruda la realtà, però è così.